Ciao a tutti e bentornati, allora in questo weekend i nostri tanto amati VIP milanesi si sono dati alle faccende casalinghe, lei nel preparare succulenti manicarette in cucina e lui ha lavato l'auto. Dunque da dove iniziamo? Partiamo dall'uomo alfa che inizia il suo vlog dall'esse lunga, ci racconta che il mal di gola di Chiara persiste, eppure ce l'ha messa tutta per guarire, ha indossato addirittura un foulard fake di Chanel e ha mangiato del riso al pomodoro, ma niente, nessun miglioramento, quindi ora lui si è recato all'esse lunga per comprarle un bel po' di gelati, che secondo la teoria della moglie e rispetto al riso caldo sono un vero e proprio tocca sana per il mal di gola. Lui condivide questa teoria, sebbene abbia qualche perplessità in merito. Oddio, per la verità anche io ne avrei tante di perplessità in merito, ma siccome il mio ruolo in questa storia è di umile narratore, quindi la mia opinione vale ben poco, quindi lui tira fuori la lista della spesa. Ha da prendere fazzoletti e gelati, sì, perché grazie allo sciroppo fluidificante pare che Chiaretta stia spurgando, tipo lascia la scia come le lumache, e quindi il nostro eroe oggi procurerà gelati e fazzoletti, impavido col suo cestino si dirige verso i reparti, ne esce poco dopo col suo bottino, tre scatole di gelati di cui otto su stecco. Ha il gusto di banana, quindi si prospetta una seratina piccante e gli altri non li mostra, forse per privacy, immagino. Nel camminare Ansima è affannata di brutto, tanto che ad un certo punto lui stesso dice che intende rimettersi a dieta, ma seriamente stavolta, perché si sente appesantito e di tanto. Poi, fate attenzione, il vlog riprende dal balcone, lui si gode il caldo, mentre Chiara sonnecchia ancora, ma giusto perché è malata, altrimenti alle 6 del mattino era già in piedi. E intanto lui, sempre dal balcone, si dice molto preoccupato per i pollini, sebbene poi lui non soffra di nessuna allergia e non vede l'ora che sua moglie si riprende, perché? Perché così potranno fare una bella gitarella. E beh, tra il lusco il brusco, comunque gli argomenti scarseggiano e quindi cosa si fa? Ci giochiamo il jolly. Sì, si parla del tempo, lui dice fa caldo. Fine dell'aggiornamento. Ci racconta che a seguito della malattia della moglie le loro abitudini sono cambiate e cioè da mondane sono diventate più casalinghe. Oddio, fa ridere già così. Comunque, pertanto anche le commissioni le stanno svolgendo lui con la Luciana in attesa della guarigione di Chiaretta. Poi il vlog riprende dalla strada. La figona ha mangiato le tre scatole di gelati ed ora sta decisamente meglio, tanto che ha accompagnato l'uomo alfa a comprare tutto il necessario per poter lavare il nuovo bolide. Segue una brevissima clip dove mostrano diversi flaconi per i vetri, scrostante, antipulci e poi direttamente dall'autolavaggio dove lei inquadra il parabrezza che gronda di acqua. Poi c'è una pubblicità sulle ascelle depilate, una del cornetto. Ah però, sta venendo anche a me il mal di cola, mi sa. Ma continuiamo col racconto. Davidone gli dà di frusta, poi da Davide l'inquadratura passa al bidone dei rifiuti e qui un utente ha scritto una cattiveria. Eh perché quello ha detto ma dov'è la differenza c'è nel senso tra Davide e il bidone. Ma torniamo al bidone. Davide getta via i tappetini, quelli vecchi, su cui è ancora ben evidente il disegno di una sagoma come quelle delle scene del crimine. Oddio, forse inizio a capire perché l'hanno pagata così poco. Vabbè, torniamo seri. Ecco, l'avventura all'autolavaggio dura poco. Perché? Perché ci ritroviamo già a casa. Lui è sul divano e si appresta a fare il discorso conclusivo di questo merdaviglioso vlog. E allora ci racconta che dato che erano in giro oggi, ne hanno approfittato anche per fare un po' di spesa e non avevamo dubbi. E poi parte il suo riassunto dell'avventura all'autolavaggio e dice la moglie è stata bravissima. Allora, per chi non avesse visto il vlog, la Chiara era all'interno dell'auto a riprendere col cellulare lui che lavava l'auto al di fuori. Lui invece ha fatto dei danni e qui parte il quizzone. Secondo voi qual è il danno che ha commesso? Opzione A, non ha regolato bene la potenza dell'acqua e ha spaccato i finestrini. Opzione B, ha lasciato aperto il porta bagagli ed è entrata tutta l'acqua dentro l'auto. Opzione C, non me ne frega niente. Bene, nel frattempo che voi rispondete al questionario, al magico questionario, continuiamo noi col racconto. Allora, lui lavava fuori, lei lavava dentro, andava tutto benissimo. Avevamo prelavaggio, passaggio di spazzola, risciacquo, però poi dopo l'uso del vetril i vetri sono usciti una ciofecata, risultando addirittura opachi. Ora lui, per verificare che la colpa sia del vetril, praticamente la prossima volta cambia autolavaggio. E questa sarà la prova del 9 sulla validità o meno del prodotto. Quindi, non appena risolve l'imprevisto dei vetri opachi, ci mostrerà l'auto nuova. Vabbè, ma comunque, ma chi se ne frega. Ora, nel frattempo che lui si produceva in questo merdaviglioso vlog, la sua dolce metà si dilettava ai fornelli. Meglio di una perfetta casalinga degli anni 50. Il video ricetta che andiamo a riassumere e commentare porta per titolo, video ricetta pasta con le patate, buonissima. Oddio, io buonissima, aspetterei un attimo. E la copertina del video riporta il risultato finale di questa merdavigliosa ricetta, che sembra la conseguenza di una nottata di bagordi. Però, mi rendo anche conto che ci sia qualcuno, magari, che vuole imparare a cucinare. E quindi, andiamo a vedere come si realizza questa merdavigliosa ricetta. Il video inizia con Chiara davanti agli scavi di Pompei. Ah no! Deve essere un video riciclato di quando erano ancora dei suocerini. Vi ricordate quando avevano appiccicato quei pannelli in gomma di finti mattoni bianchi e poi subito rimossi? Perché? Perché il calore dei fornelli accesi li faceva staccare ogni volta. Immaginate un po' il fastidio di ritirarli via ogni volta dalle padelle con il sugo. Per realizzare questa ricetta, lei non l'ha fatta così a caso. Anzi, si è molto documentata prima di riprodurla. Esattamente come fu col tiramisù alternativo, di cui tutti ricordiamo le conseguenze. Quindi, non ci resta che seguire passo passo la video ricetta della nostra figona. Anzi, a sto punto potrebbe proprio aprire una nuova rubrica tipo in cucina con la figona. Farebbe il botto di viso. Vabbè, torniamo seri e seguiamo i passaggi. Serviranno per questa ricetta patate, cipolle, sedano, carote, lardo, pepe, lardo, pepe, sale e pasta povera. Dice, e come facciamo a sapere qual è la pasta povera? Ebbè, voi prendete quella che costa 20 centesimo al chilo. Poi non chiedete tutto a me. Lo sapete che mi incazzo. Allora, andiamo alla pratica. Prendete delle patate, circa 6 da un chilo l'una. Togliete, se volete, via la buccia e tagliate a cubetti, riponendo il tutto in una ciotola, magari di allocchitti. Dice, ma deve essere per forza di allocchitti. Beh, se vuoi che la ricetta riesce, sì. Poi, dove eravamo rimasti, mi avete fatto distrarre con allocchitti. Ah, una volta tagliate tutte le patate, ci versate sopra dell'acqua fino a ricoprirle del tutto e mettiamo da parte le patate. Poi, passiamo alla cipolla che va tagliata a fettine talmente sottili tipo il velo di una candida sposa. E poi andiamo avanti col mettere in una padella antiaderente dell'olio aromatizzato al peperoncino. Aggiungete la cipolla e lasciate soffriggere. Poi aggiungete i cubetti di patate e un po' di acqua. Il tutto deve cuocere almeno per dieci minuti. Poi aggiungete un po' di passata di pomodoro vellutata come un puff di filomena amore. E mettete anche del pepe. Beh, dice, è come ce lo mettiamo del pepe? E mentre cucinate indossate un completino sexy. O semplicemente aggiungete un po' di pepe in quanto spezia. Credo sia questa quella giusta. Il tutto deve cuocere per almeno dieci minuti. Ah, ma questo già l'abbiamo detto, cazzo. Io ho fatto ottomila tagli in questo quest'audio. Non lo finirò più. Si rigira il tutto per un po' e si aggiunge anche la pasta, quella povera di cui abbiamo parlato prima. Cottura forse dieci, dodici minuti e poi si procede con l'impiattamento. Allora adesso vado a descrivere il risultato. Allora si presenta un composto di colore marroncino chiaro, assenza di sughetto e ricorda molto le conseguenze di una notte brava. Beh, è questo è. Bene, se vi è piaciuta questa merdavigliosa ricetta la copiate e poi magari ci fate sapere il risultato tramite che? Tramite video, tramite foto. Mandateli pure a critiche, grazie. Perché a me già questa mi sta facendo sentire male, non riesco a guardare. Comunque, questo praticamente era il riassunto dei loro due ultimi vlog, meravigliosi tra l'altro, lo devo dire per contratto. Quindi a noi non resta che salutarci, darci appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto e nel frattempo che succede tutto questo, un bacio a tutti da Gossip. Grazie a tutti. Grazie a tutti.